Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come sbloccare lo stile per il trofeo di Wolverine. Se avete completato la sfida di Wolverine ed avete sbloccato appunto il trofeo, quindi lo zainetto, zaino di copertura, quello che è, come sapete c'è uno stile alternativo. Come fare per sbloccare lo stile alternativo di questo trofeo o zainetto? Molto semplice. Lo equipaggiate, prima di tutto ovviamente, e dovete praticamente recarvi qui al cimitero delle sentinelle qua. Al cimitero delle sentinelle vi è una sentinella in particolare che non ha la testa, perché è stata recisa da Wolverine, che poi è quella che sto utilizzando in questo momento. Quindi per sbloccare lo stile di questo zainetto non dovete fare altro che equipaggiare la testa con un qualsiasi personaggio, è indifferente, e atterrare o raggiungere in un secondo momento la sentinella che non ha la testa, che è praticamente questa qua. Vedete? Il cimitero delle sentinelle sta qua, non potete sbagliarvi. Quindi con lo zainetto equipaggiato atterrate qua o lo raggiungete in un secondo momento e lo stile aggiuntivo per lo zainetto sarà il vostro.